Ciao a tutti sono Sierra Kaiser bentornati sul mio canale con un nuovo video. Allora vi parlerò delle novità rilasciate dalla Rockstar Game su Reb The Deademption 2 che uscirà a breve. Allora come vedete prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se non sento quelli iscritti, attivate la campanella e trovate i miei sociali in descrizione e mi raccomando entrate nel gruppo Reb The Deademption di Telegram che trovate in descrizione e anche nel mio canale Telegram. Allora iniziamo subito col video. Oggi la Rockstar lunedì 17 settembre ha rilasciato sul proprio sito e su Instagram delle foto di quello che sarà Reb The Deademption 2. Allora in questa foto è molto datata, hanno usato l'effetto datato 1800, infatti è anche molto carina, si vede il paesaggio di una cittadina che si chiamerebbe Valentine, si chiama Valentine, Valentine, the Earthlands. Allora è una città violenta, sguaiata e lavoriosa, cittadina da lì Earthland, quindi sarebbe lo Stato credo, Valentine a tre commercianti, mandriani, cowboy, scommettitori fuori legge e prostitute, da ogni angolo d'America, tutti in cerca di denaro, divertimento e caos. Da queste parole deduco, penso sia così per forza, che se ci saranno degli scommettitori ovviamente si potrà anche scommettere. Non so se ci sarà magari un casino, non lo metto in dubbio, però nulla di ufficiale. E poi ovviamente fuori legge prostitute, quindi probabilmente ci sarà il discorso delle taglie, eccetera, eccetera. Poi in questo secondo screen troviamo due nuove foto, allora la banda a cavallo che credo stia per sparare e l'ingresso di un bandito, non so chi in questo caso, dentro un locale è probabilmente per effettuare un colpo, una rapina, con un colpo che sta sparando in aria vedendo il fuoco della pallotola, del colpo, dalla foto, dallo screen. In questo altro screen troverete un'altra immagine, sembra l'ingresso di una stazione ferroviaria, vedete l'ingresso del treno e la gente sopra, quindi uno dei piani superiori, quindi vedete lì comunque il treno lì parcheggiato, quindi secondo me è una stazione di treni, di allora ovviamente, con le rotaie, eccetera, eccetera, le scale per salire sopra. Allora, questa città si chiama Hannesburg, Roanoke Ridge. Allora, la vita non è facile per i minatori e le loro famiglie ad Hannesburg, quindi probabilmente ci sarà una miniera se questa si parla di minatori. e comunque magari andremo a fare missioni, sparare, uccidere, nascondere i cadaventi, chi lo sa, non si sa mai in questo gioco, e la Rockstar ci si è sempre fatto grandi sorprese. Allora, questa Hannesburg fornisce carbone al paese tramite il fiume Lannaicis, non so neanche se lo sto pronunciando nel modo corretto, che ha quasi un secolo, le condizioni di lavoro sono tremende e la paga in misera. Molti uomini, oltre alla dignità, i minieri hanno perso anche la vita, ovviamente i minieri muoiono in tanti. In quest'altro secondo screen, dopo questa città, troviamo questi due banditi che sembrano saltare una stazione, comunque sparando qualcuno. Vedete il fucile che spara l'effetto del fuoco, l'altro che ha in mano la pistola, comunque capisco che sono in una stazione, perché vedo i treni, ovviamente, dietro la montagna. E quindi, nella seconda foto, vedete anche il personaggio che va a cavallo, probabilmente ha una discussione, fa due parole con la gente del posto, magari qualche battuta. In quest'altro screen, allora, la città si chiama Saint-Denis, nello stato, credo, del Bayou, NWA, non so come si lega, non chiedetemi di rileggerlo. Allora, uno degli snodi commerciali più importanti del paese, la città di Saint-Denis, classica anche città francese, quindi sicuramente sarà stata sotto il dominio francese, con un nome così, credo, io non lo so. È un melting pot di culture e persone dove l'alta società, uomini d'affari, marinai medicanti e ladri, vivono a stretto contatto. Quindi è una città con più culture, con più vari generi di personaggi, livelli sociali, secondo me. Quindi probabilmente lì, mia idea e opinione, si potranno fare rapine, magari girano più soldi, ci sono più banche. Mi sembra anche una città più ricca, vedendo anche la foto, lo screen del trama, quindi una città evoluta dove ci sono strade, non strade di fango, come si vedeva dal trailer di Red Dead Nation 2, quindi una città più all'avanguardia, più ricca, quindi dove credo ci possono essere più possibilità. Questa è la mia idea, ovviamente. In quest'altro screen, invece, sempre per quella città, troviamo il bandito, dove si è aggrappato, credo ad un treno, probabilmente a quel tram in cui vi dicevo, deduco che sia il tram perché vedo dietro di lui una panchina. I treni non vanno sulla strada, quindi se c'è una panchina vuol dire che c'è una strada. Probabilmente ci si potrà attaccare veicoli o nascondersi dietro per sparare, per fare altre scene, per combattere comunque il nemico o ucciderlo o comunque qualcosa del genere, come magari per esempio in GTA V, ci si può nascondere dietro un veicolo e sparare. È un esempio così, è quello che voglio farvi credere, darvi quell'idea. E poi comunque vedete nella seconda foto il personaggio che parla con, credo, un barista, quindi probabilmente saremo in contatto con tanta gente nel gioco, quindi anche gente dei locali, magari negozianti, potremmo andare a prendere da bere, rifocillarci, comprare roba, quindi tanta roba questo Reb The Denison 2. Andiamo avanti. In questo secondo screen potete trovare il monte Agen, dove vedete tanta neve, ovviamente essendo in montagna, e poi un cavallo con un personaggio che scende dalla montagna lì in mezzo, e poi una specie di capanno, non so come chiamarlo, probabilmente per ripararsi, per salvare dalla missione, per quando faremo, andremo in quella zona, per ripararsi, non lo so, dal freddo, rifocillarsi, eccetera, eccetera, molto molto carino. Quindi si deduce che anche da questo secondo screen, che ho lasciato insieme, ci saranno delle sparatorie sulla neve, delle missioni, come vedete i personaggi vanno a cavallo sulla neve, quindi ci sarà una montagna ovviamente, ci farà freddo, probabilmente condizionerà il tragitto, vedete le ombre dei cavalli, scusate, non le ombre, le orme dei cavalli, quindi probabilmente il tragitto sarà più lungo, più difficile da percorrere, ci metteremo più giorni, essendo a cavallo ma probabilmente i personaggi si stancheranno, dovranno scaldarsi, fucilarsi, dormire, sparare sulla neve magari non sarà semplice, perché sarà scivoloso, eccetera, eccetera, queste mie idee, però, secondo me questo gioco sarà molto molto realistico, sotto tutti i tanti grandi aspetti, soprattutto la fisica e la grafica. Quest'altra foto ci mostra un complesso cittadino, con una strada, dei calessi, eccetera, con della gente appoggiata, rispetto alla seconda città mostrata prima, quella con il nome francese che adesso, scusate, non mi ricordo, è molto più povera, sendeniera mi pare, infatti vedete non ci sono neanche strade, non c'è nulla a confronto, c'è solo erba e terra, invece quell'altra era molto più industrializzata e per esempio anche asfaltata, credo, non lo so, quindi mi fa capire che ci saranno probabilmente città ricche e città povere, dove ci saranno meno soldi e più soldi, più bottini e meno bottini, più attività e meno attività, questo è il mio parere, ma secondo me non l'ho torto. In questa invece, seconda altra foto, trovate il gruppo di pistoleri e il personaggio che sta assaltando, rubando, o in una banca, in una poster, non lo so, in un ufficio, puntando la pistola contro un personaggio del computer, del gioco e quindi, come si diceva, rapine go go, classico di GTA ormai, ma cosa normalissima, non vuoi non rapinare in un gioco del genere o in GTA, mi sembra stupido. E comunque dicevo anche degli altri quattro personaggi che girano armati, quindi sicuramente per forza saremo obbligati anche a tratti nella storia, a girare in gruppo e magari ci divideremo, chi lo sa, e ci ritroveremo. In quest'altra foto vedete una città che si chiama Strawberry, Big Valley, dove vedete un calesse con dei personaggi che stanno trinando un cavallo, vengono trinando un cavallo e attraversano questo cartello, questa entrata della città uscita. Vedete anche delle case tipo palafitte sopraelevate, ma non neanche palafitte, però comunque vedete una città nel verde di dico io palafitte perché sono sopraelevate, ma le palafitte sono sull'acqua, però ci siamo intesi. Quello che viene segnato, Strawberry era poco più di un umile paese di taglialegna, quindi essendo in montagna se ci sono taglialegna, come unica mansione, prima che arrivasse il suo nuovo sindaco, un eccentrico della costa occidentale, la sua sessione era di trasformarlo in un polo del turismo di lusso, suscita l'irarità dei suoi concittadini, quindi una città piccola che voleva diventare grande per rompirla. In quest'altro screen troviamo due banditi che fuggono e un'immagine di un trekker's hotel, quindi sicuramente o ruberemo, come dicevo, in varie attività, rapineremo varie attività, o comunque potremo soggiornare in varie attività, in varie posti, come per esempio hotel o non so cos'altro, o anche come case, magari ovviamente comprandole o usandole come rifugi per le fughe, non lo so, qualcosa del genere, comunque potremmo fare di sicuro qualcosa del genere, per forza. E basandomi sulla foto vedo questo hotel trekker's con della vegetazione lì del tipo del giardinaggio messo lì, non lo so, coltivazione di fiori, un tronco sopraelevato, che non so se possa essere tipo una tubazione, un tubo dell'acqua, qualcosa del genere, tipo d'antenati romani, non lo so. Ditemi voi cosa potrebbe essere in quei tempi allora, secondo me è un tipo un specie di tubo fatto con legno e fa passare l'acqua, non lo so, credo io, di sicuro non ci passavano le persone lì sopra. E poi avete Calais, eccetera, comunque una cittadina di montagna, da come credo sia, e comunque non è una cittadina ricca perché non è asfaltata come Saint-Denis, o comunque ha una palimentazione diversa, più ricca. Ora in quest'altra troviamo Lagras, quella di Lagras, un piccolo insediamento situato nelle paludi del NVA, non so leggere lo stato, la città, quello che è, nel Lemoine, è una comunità per lo più autosufficiente che sostenuta, che sostenta rivendendo i frutti della pesca e facendo da guida i viaggiatori che desiderano visitare la zona. Allora, come vedete ci sono queste palude, vedete la barchetta dentro, quindi probabilmente ci saranno alligatori per forza, dovremmo stare attenti ai mari selvatici e come detto da quello che si è scritto, credo che si possa pescare per sopravvivere. Infatti vedete da questo screen il personaggio che sta, credo, squaiando un alligatore, probabilmente per rivendere la pelle e guadagnare qualcosa, credo cercata all'ora, ricercata all'ora per campare, per vendere, una cosa di lusso, e il personaggio che entra nelle paludie d'acqua medio-alta, a ginocchia, quindi occhio agli alligatori e animali selvatici non tanto simpatici. Allora, il video termina qui, grazie per aver visto questo video, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti, attivate la campanella, entrate nel gruppo Telegram che state vedendo ora, lo trovate in descrizione, e anche nel mio canale Telegram, trovate anche i miei sociali in descrizione. Niente, per altre novità su Red Dead Nation 2, rimanete sintonizzati sul mio canale e nel gruppo Telegram. Grazie, alla prossima da Sierra a casa, ciao belli!